Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Ivan Fernando e oggi siamo in un nuovo vlog Oggi vi farò vedere Come sono le mie tablette Guardate Ora vediamo un video su Youtube Per esempio questo qua è una mia amica Che di noi mi seminara Guardate E mi sono iscritto a tanti Ecco Filippo seminara Vediamo L'avviso dai Ciao a tutti belli e brutti Allora Oggi sono qui con un nuovo Oggi voglio fare il video Ok potrebbe passare Ora vediamo La bottiglia di violetta Questa la vediamo tutto dai Tanto dura due minuti e undici secondi Oggi voglio fare vedere La bottiglia di violetta Questa è la bottiglia di violetta Questa è la bottiglia di violetta Questa è la bottiglia di violetta Partiglia di violetta Contacta Allora Guardate Allora Allora Non mi sta bene ora vediamo peppa pig divertente peppa pig divertente peppa pig divertente ecco papà maglia mettiamo un bel mi piace io sono peppa la maiala e questo è mio fratellino george questa è quella maiala di mia mamma e questo è gli alleanzi la tornata perfetta peppa pig la mattina si alza molto presto perchè deve andare a scuola a cacare la prima cosa che fa è la colazione mamma ho fame fammi da mattare in fretta sbrigati ma non ce ne sono eh si sono ancora tutte le lente ma porca di quella mamma maiala mamma fammi la colazione mi piace mi piace mi piace mi piace il papà la mamma fa lo stesso peppa pig va a scuola con papà pig papà ma dove cazzo abitiamo? se frana in terreno riproviamo la casa in cina aspettate un po' eh aspettate un po' eh oggi è un giorno particolare per peppa pig e si avrà un'importante interrogazione fa un culo taglio la mattinata basta molto in fretta dammi i soldi vecchia di merda è l'ora di pranzo e mamma pig ha preparato la zuppa che schifo sembra mobito ma no peppa mangia che vuoi mandatelo te io voglio il prosciutto mangia che ti fa bene mamma non scatta pebrarmi le palle io questo non lo mangio ecco nel pomeriggio peppa è la sua amica su zi pecora fa i compiti peppa perchè devo fare i compiti per tutte e due mentre ti giochi? ma cosa stai dicendo ti sto aiutando con lo sguardo vai via che stiamo facendo i compiti non è vero tu non stai facendo niente mamma e papà ti hanno adottato a fine giornata peppa e la sua famiglia guardano il loro programma preferito condotto da Barbara d'Urso si da Barbara è la migliore ah è stata davvero una lunga giornata lunga ed emozionante eh si la giornata perfetta ok ora mettiamone un altro ok io sono Peppa Pig 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 lei è mamma Pig questo è il mio fratellino George e lui è Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig sabbia boccianghere di boccianghere di oggi piove quindi piove quindi piove quindi Peppa e George non possono andare fuori a cacare Papà, ha smesso di piovere Possiamo andare fuori a giocare D'accordo Papà, papà, papà Possiamo andare fuori a giocare D'accordo Papà, possiamo andare fuori a giocare Ebba ama saltare nelle pozzanghere di pozzanghere Io amo pozzangherare nelle pozzanghere Se vuoi pozzangherare nelle pozzanghere di fango Devi indossare le galosh di fango Anche a George piace pozzanghere Farei delle pozzanghere Dinosaur George, che fai? Se vuoi fango delle pozzanghere di fango Devi indossare le pozzanghere delle galosh di fango Dinosaur 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 Andiamo a cercare le pozzanghere in cui Cercare le pozzanghere in cui saldare Peppa ha trovato una pozzanghere grande George ha trovato una pozzanghere piccola Dinosaur 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 ok 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 la acqua aspettate miglior video sketch di Peppa Pig ora guardate Fabi Jake i suoi video guardate la scritta Fabi Jake che lo voglio far vedere al mio amico Matteo la possiamo chiudere qui come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace anche la pagina qui se non siete con gli iscritti noi ci vediamo nel prossimo video bra ragazzi